Il rugby è un sport molto divertente perché si sta in compagnia dei tuoi compagni. Nel rugby puoi avere nuovi amici ed è bello il gioco del rugby. Nel rugby è bello il gioco di squadra, il contatto e accelerare quando si ha la palla. Cosa vi piace di più? Placcare. Cosa è la cosa più bella? Rugby. Lo consiglio a tutti perché è uno sport di squadra e ti diverti molto. Giochi con gli altri, è bello anche per le mete, andare in sostegno ai compagni, è molto divertente. La vita è tutto rugby per me, è bellissimo, consiglio a tutti venire perché è uno sport per tutti. Edo è un posto dove ti sfoghi e quelli che ci verranno ameranno il rugby. I love rugby. Gioca il rugby con il rugby treviso. Giocare a rugby perché è uno sport in cui si può variare molte nazionalità, soprattutto il topolino, che si sviluppa in Ghirada. Possiamo incontrare altre squadre di altre nazioni, poter giocare insieme con i propri amici, divertirsi, calciare, passare la palla, placare, essere uno squadro unito. Io sono nata con la palla in mano e il rugby per me è una seconda casa, è uno sport fantastico e unico al mondo. Gioca il rugby? Io penso che è abbastanza ok per me qui. Gioca il rugby per me è un progetto.